Carlo Magno, l'imperatore che unì l'Europa. Carlo Magno, nato nel 742 e morto nell'814, è stato uno dei sovrani più importanti dell'Europa medievale. Durante il suo regno, che durò 46 anni, riuscì a unificare un vasto territorio, dalla Francia alla Germania, dall'Italia alla Spagna, e a promuovere la cultura e la civiltà. Le origini. Carlo Magno nacque a Quisgrana, in Germania, figlio del re Franco Pipino il Breve. Sua madre, Berta di Laon, era una nobildonna franca di origine nobile. Carlo Magno ricevette un'educazione di base, ma non era in grado di leggere o scrivere. L'ascesa al potere. Alla morte del padre, nel 768, Carlo Magno salì al trono insieme al fratello Carlo Manno. I due fratelli governarono insieme per alcuni anni. Ma nel 771 Carlo Manno morì e Carlo Magno divenne unico sovrano dei Franchi. Le conquiste militari. Carlo Magno fu un grande condottiero e durante il suo regno conquistò un vasto territorio. Nel 774 conquistò il regno Longobardo in Italia. Nel 778 conquistò la Spagna e nel 782 conquistò la Baviera. Nel 791 sconfisse gli Avari, un popolo nomade che minacciava l'Europa orientale, e nel 804 sconfisse i Sassoni, un popolo germanico che viveva nell'attuale Germania. L'incoronazione a imperatore nell'Ottocento, durante una messa di Natale a Roma, Carlo Magno fu incoronato imperatore dal Papa Leone III. Questa incoronazione segnò la nascita del Sacro Romano Impero, che sarebbe durato per oltre mille anni. La promozione della cultura. Carlo Magno era un uomo colto e amante della cultura. Durante il suo regno promosse la diffusione della cultura latina e la traduzione di testi classici in lingua volgare. Inoltre, fondò una scuola di cancelleria a Aquisgrana, dove si formarono i funzionari del suo governo. La morte. Carlo Magno morì nell'814 ad Aquisgrana. Il suo regno fu un periodo di grande prosperità e sviluppo per l'Europa. Carlo Magno è considerato uno dei più grandi sovrani della storia europea e il suo nome è ancora oggi sinonimo di grandezza e potere. L'eredità di Carlo Magno. L'eredità di Carlo Magno è vastissima. Le sue conquiste militari hanno contribuito a unificare l'Europa occidentale e la sua promozione della cultura ha contribuito a diffondere il cristianesimo e la civiltà latina. Carlo Magno è considerato il padre dell'Europa moderna e la sua figura è ancora oggi fonte di ispirazione per molti. Alcuni dei principali contributi di Carlo Magno all'Europa. Unificazione politica e culturale dell'Europa occidentale. Carlo Magno riuscì a unificare un vasto territorio, dalla Francia alla Germania, dall'Italia alla Spagna. Questo processo di unificazione fu reso possibile dalla diffusione del cristianesimo, che contribuì a creare un senso di unità tra i popoli dell'Europa occidentale. Promozione della cultura. Carlo Magno fu un grande patrono delle arti e delle lettere. Fondò scuole e biblioteche e promosse la traduzione di testi classici in lingua volgare. Questo processo di diffusione della cultura contribuì a creare un'identità europea comune. Diffusione del cristianesimo. Carlo Magno fu un fervente cristiano e contribuì a diffondere il cristianesimo in tutta l'Europa occidentale. Questo processo di conversione fu reso possibile dalla forza militare di Carlo Magno, che impose il cristianesimo ai popoli conquistati. La figura di Carlo Magno è ancora oggi oggetto di studi e dibattiti. Alcuni storici lo considerano un grande sovrano, che ha contribuito a creare le basi dell'Europa moderna. Altri, invece, lo accusano di essere stato un conquistatore sanguinario e di aver imposto il cristianesimo con la forza. Indipendentemente dalle opinioni, Carlo Magno è una figura fondamentale della storia europea e la sua eredità è ancora oggi ben visibile nel nostro continente. Indipendentemente dalle opinioni, Carlo Magno è una figura fondamentale della storia europea e di aver imposto il cristianesimo. Indipendentemente dalle opinioni, Carlo Magno è una figura fondamentale della storia europea e di aver imposto il cristianesimo.